Dovessero rinnovarla, volevano fare un po' il piccolo Alba Rorati, il ventile, non voleva fare un piccolo Vedi la vedi la vedi Senti, in accavi Raffaele, lo mettiamo su youtube Saluto agli amici e beh si saluta a tutti gli amici ciao ciao fate passare il taxi che sta lavorando fermo lì prego ma c'è il colosseo ragazzi volete passare con l'osseo volete passare con l'osseo si si con l'osseo il video poi lo metto su youtube dai lo metto ma entriamo dentro qua andiamo andiamo al colosseo andiamo al colosseo andiamo al colosseo buongiorno ciao ragazzi il centurio non si paga con noi fai foto con lei con lei